Sono contento di aver fatto il gol e di aver portato a casa un punto, perché un punto è meglio che zero. Sapevamo che venire a giocare su questo campo non era per niente semplice, non dovevamo prendere gol, perché poi magari se non prendi gol alla fine ne salpi fuori. Però la squadra, nonostante sia andata in svantaggio, è rimasta con il cuore un po' agganciata alla partita. Alla fine ci portiamo a casa a questo punto, che noi dovremmo vincere tutte, lo sappiamo, però purtroppo non sempre le cose vanno come vogliamo. Tra l'altro, una nota curiosa, hai ereditato la fascia di capitano a Sette in Vini quando è uscito. Che cosa vuol dire indossare quella fascia? Per me, innanzitutto, Sette è un grandissimo capitano, questo voglio sottolinearlo. e per me è un onore, perché portare la fascia di capitano in una squadra, in una piazza così importante, è sempre qualcosa che ti fa tanto piacere. Sono contento, poi aver fatto la fascia di capitano è stato ancora più bello.